...colica. Ore di ansia per Sakhinè, la donna iraniana condannata per adulterio. Potrebbe essere giustiziata domani. Continua la nostra campagna per salvare la vita. Mandate i vostri messaggi al blog o sul sito tg1.rai.it. Li invieremo all'ambasciata dell'Iran in Italia. Lucia Duraccio. Potrebbero essere le ultime ore utili per fermare la mano del boia iraniano. E' il Comitato internazionale contro le esecuzioni a dare l'allarme. I ministri Frattini e Carfagna lanciano ancora un appello all'Iran, ma il titolare della farnesina precisa, l'ambasciatore italiano a Teheran, non ha conferma del fatto che Sakhinè sarà giustiziata domani. Dall'Iran l'unica voce ufficiale è quella del vice ministro degli esteri. L'Iran difende la vittima e la sua famiglia. L'Occidente difende l'omicida. Perché l'Europa, si chiede Kashkadi, non si mobilita anche per donne condannate a morte negli Stati Uniti? Beglia per Sakhinè davanti alla sede romana del Parlamento europeo. Manifestazioni analoghe anche a Parigi. Ultimi disperati tentativi di salvare una donna in carcere da quattro anni per una vicenda dai contorni poco chiari, fatta di confessioni estorte e torture in carcere. Da agosto Sakhinè non ha potuto più incontrare né familiari né avvocato. Finiti anzi anche loro in prigione per aver parlato con due giornalisti tedeschi. Segno che il regime degli Ayatollah non intende tornare sui suoi passi e per Sakhinè potrebbe essere davvero troppo tardi.